È un po' male perché nella seconda manche sono stato out già dal primo giro per un contatto e così dopo aver vinto la prima, nella terza sono stato costretto a partire ultimo e però andò tutto bene e sono riuscito a rimontare fino al quarto posto. In finale sono scattato dalla quinta casella e dopo i primi giri un po' difficili sono riuscito a prendere il largo e andarmi a prendere la vittoria. Speravo sì, però sapevo che era dura perché c'erano tanti altri giovani appena arrivati come Müller che andavano molto forti e che avevano paura che mi potessero insidiare. Poi anche Zani e Bensi avevano un ottimo passo. L'obiettivo sarà sicuramente vincere e ci proveremo con tutte le nostre forze. Vedico la mia seconda vittoria alla Rock Cup a tutta la mia famiglia, alla Winkart e a tutte le persone che mi sono state d'aiuto.